È un'area inevitabilmente strategica, la cui dimensione strategica aumenta negli ultimi anni. Credo che sia un quadrante nel quale è fondamentale la stabilità, ma anche un quadrante che offre grandi opportunità all'Italia, che offre grandi opportunità a livello multilaterale e a livello bilaterale, come si vede anche grazie ai nostri rapporti con il Giappone. Ci è stato chiesto da tempo, particolarmente dal Giappone, di aumentare la nostra presenza nell'area, anche su una cooperazione in ambito di difesa che si materializza poi particolarmente col Global Compact Air Program, ma non solamente, e che secondo me deve esplorare nuovi ambiti, nuovi settori. Chiaramente noi abbiamo dei gioielli da questo punto di vista e cerchiamo di renderli sempre più presenti nell'area. Quest'anno arriveranno nel mese d'agosto, prima gli F-35, parliamo di esercitazioni militari, di esercitazioni militari congiunte, prima gli F-35, poi arriverà la nostra nave Capur con altri avvelivoli, poi arriverà l'Americo Vespucci, la nostra nave Scuola. E quindi c'è, diciamo, secondo me, interesse a una maggiore e migliore presenza italiana, particolarmente nell'anno in cui presidiamo il G7, perché l'Indo-Pacifico è, per la dimensione del gruppo dei sette, è particolarmente importante. Presidente, oggi a Roma la società di emendamenti sul premierato è soddisfatto nel contomesso che è provato nella maggioranza, e invece dalla parte dell'opposizione è arrivata una balanga di emendamenti. Vabbè, l'opposizione fa il suo lavoro, mi sembra abbastanza normale, loro non vogliono l'elezione diretta del capo del governo, è una posizione legittima, è normale insomma che cerchino di realizzarla con gli emendamenti. Per quello che riguarda la maggioranza, sono molto contenta del fatto che lavorando si sia trovata una formulazione della norma che è più chiara rispetto alla precedente e che ribadisce un fatto semplice. Sono gli italiani, se passa la riforma, che devono scegliere a chi farsi governare, serve stabilità dei governi, basta con gli inciuci, basta col trasformismo, basta con i governi tecnici, la democrazia funziona che si esercita se risponde alla volontà dei cittadini. È quello che noi stiamo cercando di realizzare, non mi stupisce che altri, diciamo che in questi anni hanno privilegiato i governi costruiti nel palazzo, siano contrari, ma rimane che abbiamo avuto un mandato dagli italiani e intendiamo portare avanti la riforma che io considero in assoluto la madre di tutte le riforme, perché una forza e una stabilità della politica può anche generare, diciamo, tutte le altre riforme che sono necessarie in questa nazione. Presidente, con la parola di Estra, oggi è uno dei leader dei diritti perché l'Italia sarà un pensaggio, se non è necessario, se non è necessario, se non è necessario, se non è necessario, come valuta il governo questa nazione? Guardi, io penso che sia nel nostro interesse sia nel nostro dovere garantire la libertà di navigazione. attraverso il canale di Suez, diciamo, transita il 15% del commercio mondiale. Se quel canale non fosse disponibile, noi avremmo come immediato riscontro l'aumento dei prezzi sul 15% dei prodotti che arrivano da noi.